10 secondi più lenta al sindaco allora, finalmente il tricolore Sventola si può partire è ufficiale, benissimo la partenza è ufficiale come è il caso, la 37esima edizione del rally del ciocco e la valentino del certo si parte come è il caso che ci faceva con noi e vado ad ora il silenzuolo e il giro è il caso grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.